Signori, bentornati dall'Eccelso di Irma Channel in questo extra video che avrei voluto non fare, assolutamente. Diciamo che è un giorno triste, ve lo dico veramente in tutta sincerità, perché io sono stato il primo a criticare Pavoletti che aveva ereditato una pesante eredità, quella di Borriello, di Punta Centrale, che aveva fatto molto bene l'anno prima. L'ho criticato, mi sono anche forse buttato un po' nella mischia, seguire quello che era il pensiero generale senza capire che un giocatore del genere ha bisogno di tempo per entrare in condizione e cercare comunque di capire le sue difficoltà nel entrare nel modulo di un Maran, di un Rastelli, mi pare sì ci fosse Rastelli ancora prima. Quindi, signori, qua c'è poco da dire. Io lancio questo hashtag che è già stato lanciato, ForzaPavo, ma veramente lanciato dal cuore, non per fare un social movement, come si dice, un movimento di social. Io veramente vi faccio, vi lascio così, io con questa maglia di Pavoletti che mi sarei voluto far autografare, ma purtroppo con l'infortunio non è stato possibile. Io che, vi ripeto, per primo l'ho criticato e per primo forse l'ho anche amato ed è diventato veramente uno degli idoli calcistici miei a livello proprio di persona e tanto altro, e tanto altro. Quindi ForzaPavo, ForzaPavo davvero ragazzi, ForzaPavo, ci vediamo in campo, un bacione accademico, sempre Forza Cagliari, dai ragazzi e dai Pavo.